Un ordine di servizio del manager dell'ASP7, Maurizia Ricò, disporrebbe dal lunedì prossimo il trasferimento del personale del reparto di chirurgia dell'ospedale Busacca di Scicli in vari reparti del Maggiore di Modica. Una scelta che di fatto sancirebbe la chiusura dell'unità di chirurgia Scicli, una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. La situazione, oggetto di un vertice in municipio tra il primo cittadino di Scicli, Enzo Giannone e a Ricò, ha messo in allerta lo stesso sindaco, che ha sottolineato come la scelta dell'azienda sanitaria si è giunta in attesa, non annunciata, priva di qualsivoglia confronto con l'amministrazione comunale. Giannone ha lasciato chiaramente intendere che la città non accetterà assupinamente questa ipotetica decisione, lottando per il mantenimento del reparto di chirurgia anche al fine di non depotenziare il Busacca. E proprio sul futuro dell'ospedale interviene anche la senatrice PD Venera Padua. Alla luce della prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento su ILEA, i livelli essenziali di assistenza, sostiene la senatrice DEM, sarebbe auspicabile un'accelerazione del processo di conversione dell'ospedale Busacca di Scicli, struttura di riabilitazione. Il provvedimento su ILEA prevede infatti tra l'altro una serie di interventi indispensabili in materia di assistenza e riabilitazione. Il Busacca, sostiene Venera Padua, potrebbe fungere da centro di coordinamento dell'intera provincia, garantendo un'offerta di servizi e prestazioni che con l'aggiornamento di ILEA sarà finalmente più adeguata e consona alle esigenze della popolazione. Il Busacca potrebbe assolvere anche la funzione di centro per le cure integrate dei disturbi dello spettro autistico, garantendo l'erogazione delle misure terapeutiche e assistenziali, quali diagnosi precoce e continuità della presa in carico. Come peraltro già previsto da un pregresso protocollo siglato dall'ASP7, è ritirato poi in autotutela dalla medesima azienda. Per questo la senatrice ha messo al corrente della situazione la Ministra della Salute Lorenzin, con la speranza che la situazione possa risolversi nel breve tempo. Grazie a tutti.